in un soffio di polvere in una maglia da pallone col sudore salve a tutti i ragazzi eccomi qua dalla mia soffitta per un annuncio speciale un annuncio sorpresa almeno così speriamo e speriamo che sia lieta sorpresa non sono qui per parlare di date dal vivo ma in qualche modo a che fare con questa cosa perché sapete no abbiamo fatto un tour bellissimo tra marzo aprile riportando tutto a casa 30 anni dopo e cos'è successo è successo che quelle date le abbiamo tutte registrate e stiamo mettendo insieme un meraviglioso disco live di riportando tutto a casa 30 anni dopo e allora direte voi cisco ma e quindi cosa vuoi dirci voglio dirvi che abbiamo bisogno del vostro aiuto abbiamo bisogno del vostro sostegno di questa campagna di crowdfunding che partirà su produzioni dal basso per realizzare questo meraviglioso progetto questo che è un po un sogno anacronistico se vogliamo però è un sogno sì perché stiamo realizzando un doppio cd dal vivo ma soprattutto un triplo triplo dico ben triplo vinile live numerato e colorato edizione specialissima limitata ed esclusiva quindi se volete sostenere questa questa meravigliosa idea questa campagna legata riportando tutto a casa 30 anni dopo dal vivo andate su produzioni dal basso scegliete la vostra ricompensa ce ne saranno diverse faremo una maglia speciale faremo una felpa specialissima edizione limitata tutte legate a riportando tutto a casa 30 anni dopo ragazzi abbiamo bisogno del vostro sostegno abbiamo bisogno del vostro aiuto quindi vi aspettiamo andate su produzioni dal basso e scegliete le vostre ricompense e sostenete il progetto ragazzi sta per arrivare davvero un lavorone una sorpresona ovviamente tutto tratto dal tour di riportando tutto a casa 30 anni dopo live ciao ragazzi vi aspetto grazie a tutti